Tutto pronto per questo Ferragosto a Bibbiano? Sì, tutto pronto. Quest'anno la rifacciamo dopo diversi anni, per via del Covid non è stata fatta. E anche perché c'erano dei lavori sulla piazza, chi viene vedrà una piazza bellissima che ha fatto il Comune di Capolona. E dobbiamo dare atto. È stata proprio finita in questi giorni. E quindi quest'anno per Ferragosto rifacciamo questa scena del paese per la festa di Santa Maria Assunta, perché è Ferragosto. E poi la sera ci divertiamo a cantare, logicamente. Ricordiamo come si può partecipare, perché è vero che è una tradizione, però appunto sono due anni che non c'è più. Sì, è cambiata rispetto agli anni passati, in cui chiunque veniva, davamo così e non è più possibile questo, perché il Covid meno male è soppito, ma è sempre in essere, per cui si viene soltanto su prenotazione. Ci sono un centinaio di posti, di cui è abbastanza già prenotato, e quindi si mangia al tavolo tranquillamente, senza dover fare assolutamente niente. Ecco, ma Renato ci sarà? Eh, c'è Renato, c'è Roberto e poi c'è il meglio, che so io. Insomma, canta che ti passa, è un adagio che va sempre bene. Bravo, esatto. È la cosa più importante, così non pensi assolutamente niente a tutti i problemi della vita che vengono tutti i giorni. Lei sa che in quel giorno noi saremo tutti all'argentario per il palio, però insomma vi seguiremo a distanza. Va bene, via satellite, guardateci dai. Ciao, ciao e buon ferragosto a tutti.